Amici di CUN Company, buonasera e benvenuti al Sant'Ambrogio Palace di Milano, io sono Riccardo Lionetto e questa è la lega del campionato universitario, altre leghe CUN, settima giornata CZ contro la strada, CZ deve vincere per continuare il suo cammino in zona Champions mentre la strada ha bisogno di punti per ambire al playoff di Champions League Vediamo dunque le formazioni, CZ che schiera Mercuri in porta, Bronzi, Cagliò, Conforto, Corabi, Critelli, Ferrara, Gatto e Pugliese La strada risponde con Bersani in tre pali, Dell'Uva, Frascolla, Montrone, Samarotto, Venuto e Appollone Comincerà la strada, tutto pronto? E si comincia, possesso palla dunque della formazione Blaugrana Punizione, già battuta, errata E ora recupera il pallone ancora il CZ che viene avanti con Kevin, Critelli Passaggio per Conforto, Conforto, viene avanti uno contro uno, vediamo Conforto Critelli, c'è Pugliese, Pugliese col Mancino, pallone sul fondo, prima occasione della serata Occhio perché adesso viene avanti il CZ sulla sinistra, bella questa azione di Conforto, poi appoggia per Pugliese, Pugliese allarga per Critelli in aria, Critelli col destro La palla che sfiora la traversa, occasione CZ Samarotto viene avanti con il destro, a distanza, c'è il gol Il vantaggio della strada, qui infortunio di Mercuri E dunque strada in vantaggio, 1-0 Allora Ferrara, ripartita sulla destra, vediamo Pugliese 3 contro 2 Pugliese, va a puntare Pugliese Pugliese il tocco per Cagliò, che calcio alla deviazione Corner Vediamo allora Critelli che viene avanti Il tocco per Cagliò CZ che ha diminuito gli attacchi dopo il gol dello svantaggio Vediamo adesso Critelli Il pallone entro, attenzione Calcio di rigore Calcio di rigore, c'è stato un tocco col braccio C'è stato un tocco col braccio netto, visto da qua Critelli sulle punte di battuta Dunque Critelli contro Bersani Penalti per il CZ Va a Critelli contro Bersani La conclusione, la parata di Bersani La gran parata di Bersani Clamorosa Sant'Ambrogio Palace Pugliese, lo stop, la conclusione Il pareggio del CZ 1-1 dunque, allo scadere C'è la rete di Pugliese, 1-1 Bersani dunque Probabilmente poi terminerà il primo tempo 1-1, pareggio Tutto sommato meritato per quello che si è visto nel primo tempo E termina puntuale dunque La prima frazione di gioco Parità, 1-1 Allo gol di Samarotto Ha risposto nell'ultimo secondo di gioco Pugliese So per cominciare la ripresa dunque Tra CZ e la strada Parità, 1-1 La rete di Samarotto per la strada Il pareggio di Pugliese Comincerà dunque il CZ Vediamo Probabilmente andrà a calciare La formazione giallorossa Comincia dunque il secondo tempo con la conclusione di Ferrara Poi il pallone dentro Occhio adesso a Pugliese, gran giocata E poi la conclusione Il vantaggio Delle CZ dunque Che ribalta la situazione La rete di Otello Cagliò 2-1 Cagliò Zona centrale Cagliò Pensa alla conclusione Col mancino L'incrocio E poi non è finita ancora Ferrara Che passa col destro 3-1 È un CZ Diverso Quello che è entrato in questo secondo tempo Punizione Vediamo Samarotto sul punto di battuta Va con il destro Samarotto Mercuri Si riscatta la grande Ripartenza Critelli Critelli che viene avanti Col destro La parata di Bersani Poi non è finita allora Critelli Il cross dentro Ferrara Alla traversa Montrone che viene avanti Il pallone Poi tocca per venuto Samarotto Allarga per Deluva Deluva Mercuri Esce bene Attaccalo Attaccalo Poi ancora Samarotto Della distanza Pallone sul fondo E su bella la triangolazione Poi Cagliò 4-1 Doppietta per Cagliò Il pallone entra per Deluva Deluva col destro Il gol Delle 3-2 Dunque La rete di Deluva Che accorce le distanze Rete delle 4-2 Vediamo adesso Occhio Adesso sulla destra Alcora il CZ Il cross in mezzo Dall'altra parte E l'errore clamoroso Da parte di Conforto Sconfortato da questo errore Conforto Dunque termina qua Il match 4-2 A favore di CZ Che vince E si porta Nuovamente Nelle zone alte Della classifica In piena zona Champions League Dalle Sant'Ambrogio Palace di Milano Dunque è tutto Un saluto Da Riccardo Lionetto Grazie mille Grazie mille